Ben trovati in aggiornamento con le previsioni per la giornata di giovedì quando una bolla anticiclonica interesserà il Mediterraneo centrale, l'Italia con aria direttamente dall'entroterra sariano verso le nostre regioni. A nord delle Alpi invece temporali a tratti anche violenti di forte intensità con grandi inate. Andiamo a vedere quello che succederà quindi sull'Italia ancora protetti dall'anticiclone ma dei temporali interesseranno la Germania e la Francia. Tra giovedì sera e venerdì qualche temporale dalle Alpi si muoverà verso parte della Valpadana. Andiamo quindi al dettaglio e possiamo notare come sarà una giornata di bel tempo, molto calda, valori fino a 38 gradi sulle centrali tirreniche, 35 gradi 36 in Valpadana, 40 gradi sulla Sardegna. Poi giovedì sera i primi temporali al nord ovest e sulle Alpi nord orientali. Tutti i dettagli precisi scaricando l'app di Trebi Meteo.